ma dove sono sono sposato a caso ok raga raga dove sono sono nel nether oddio non ho niente 3 livelli 3 livelli ok bonus chest non so chi si fa qua io non l'ho messa ragazzi giuro le case di zelda le case di zelda ma che schifo vabbè ecco ciao 4 ma non c'ho un piccone lalala la 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 lala le qua un film di tà la 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 calm oh non c'è tanto da un ma che ah 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 ma che sei tu ah ma che sei tu ma che sei tu vai via ah non c'è tanto non c'è tanto non c'è tanto aiuto aiuto stai indietro eh stai indietro stai indietro ti freccio non c'è niente ti freccio eh si ma stai perdono tu 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 mi stai lagando lei sta lagando lei sta lagando lei sta lagando lei sta parlando italiano, non parlo italiano italiano, italiano buon uomo buon uomo ancora, mi è salito scusi, scusi, io so tutte le lingue del mondo, pensavo che lì era in inglese ma io non so in inglese uno che viveva qua magari vivesti qua questi parlano il giapponese ma io sono spawnato qua da una meteora che mi ha portato giù fammi vedere io non so come può la cacchio la in fortuna c'è forse anche a me una meteora guardi di sopra lei minchia ahia, ahia, ah ok, vediamo chi lo tiene ah, ma che schifo, le stesse cose miele vabbè, le stesse cose il nemico ma, mi sembra che ah, questo è io, mi sembra che c'è un'unica ma sembra che il destino c'è un'unica ma il destino un corno tu vai di là, io vado di qua, ok ciao oh, dai, 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 ti prego saluta allora, dai, dai zio zio allora, piacere eh, alessandro è 72 piacere da Alexman ok allora, prima cosa questo per avermi fatto del male ma sei tu mi hai attaccato da primo ehi, ehi, ehi Comunque Sono meccata colpa di questo fungo È tutta colpa sua E guarda che schifo Siamo nell'inferno È tutta colpa sua Oddio ma siamo nell'inferno Brucia Signor Darixman Signor Darixman C'è un burrone enorme Che burrone Oh ma cos'è sta cosa in area nether Oh della fortessa nether Fortessa nether vuol dire tesori Vuol dire qualcosa No signor Darixman Ma lì come è venuto qui Allora lo so io sono trovato come si è trovato tu Però questo è un parkour Aia aia Vuole provarci aspetta Vuole provarci che io sono bravo Io sono più forte Sono arrivato per primo Ma c'è una stick No Ok Guarda vediamo Ero faccio così Ok Mi devi vedere Mi devi vedere Mi devi vedere Mi devi vedere C'è un nether Nel nether Mi devi vedere Mi devi vedere No Vieni qua Ridammi un po' di quegli oggetti Ehi Fermati Fermo se lo ti prezzo Mi prezzo anch'io Fermo Senti allora io voglio fare amici Che ne dici se creiamo il portale per Ma io non so nemmeno cosa c'era dentro quella chest Stava l'ossidiana e acerina Dammi un po' di ossidiana L'accendi tu però io Aspetta Ma non lo farei io Ma io voglio fare in stile sexy Beh comunque Che mi dici Perché ho sentito un mio amico che Se crei questo portale con l'acciarino Viaggi nell'interspazio Wow Ma siamo nell'inferno Ora no Entri in un'altra dimensione Speriamo di tornare a casa C'è un gust Non lo sbrigati Ho paura Ti posso chiamare amico Ti posso chiamare amico Va bene però Accendilo Andiamocene Mia Ok 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 Derrick'sman Derrick'sman Ciao Ciao Cos'è questa cosa? Sì siamo tornati in modo reale Lei è anche bella Derrick'sman Dica Trano Ma lì là c'è Non c'è No aspetta Derrick'sman E' tutto strano Derrick'sman Aspetta non mi sento in più le mani Marzio dato il pugno Vediamo se adesso ti senti Aspetta Mi sento Derrick'sman Che mi sta succedendo Derrick'sman 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 E che vuoi da me? Aiutami Via Via Aiutami E cosa posso fare? Non so cosa fare Dove sei? Ma che c'è? Dove sei? Ma che c'è? No 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 Dove sei? Ragazzi Dove sei? Dario? Dario? Oh Dove sei? Dario? Oh Allora, farò le maniere forti. Dove sei Dario? Aiuto! Allora... Chiamiamo... Pronto a scavarti a zombie? C'è un nemico di un nemico zombie. Cosa? No, non è uno scherzo! Ah, che incompetente! Quindi non si muoverà, cosa fate? Dove sei? Vuole essere solo tuo amico! Certo. Dario Sman, dove sei? Dove sei Dario Sman? Dario Sman! Dario Sman! Dario Sman, dove sei? Non lo so! Dario Sman! Dario Sman. Ma la mi sa dove sei? Carmi Giorno! Oh, Dario! Ma che cosa cattichi? ci sarà già una musichetta di sottofondo per fare un letto non posso farlo no oddio aspetta eric's man ma va eric's man è andato c'è qualcosa dentro di me ma non me ne fate proprio la trucca Dario aiutami Dario sono io Dario sono io ah come ho fatto salvare io sono io sono io stai tranquillo no 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 veramente cosa mi è successo raccontami sei uno zombie vai via io io non sono uno zombie nooo ma io cosa mi è successo ma vai via aiutami aiutami guardami nooo vai via allora io guardo queste belle foglie il cielo bello ma che cazzo ma vai via non voglio morire ho solo cinque cuori ho solo cinque cuori allora allora non mi lascia altra scelta altra scelta altra scelta preferisco altra scelta che altra scelta altra scelta ah the fuck non lo so ma altra scelta è buono no 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 non va bene Dario non va bene ma rimani laggiù avermi detto devi rimanere laggiù cosa lo sai che io posso non lo sai dai Dario si Dario eh no questo laggiù è strano non mi piace sono tuo padre uuuuuh ARIXMAN oh porco cale oh mi cazzo hai paura? la sento no non ho paura non ho paura la sento la sento e la senti anche nelle mie cuffie ah 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 da rix-man devo cagare? ah 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 oh perda ah ah stavo cagando nemmeno un po' di privacy uccidetelo uccidetelo ma tua mamma lo devono uccidere ma che qua vai via ma vai via ahhh vieni qua Dario mi ha preso un topo topo ti voglio bene dove sei dove sei perchè con il gannato troppo mi deve rompere le scatole non c'è ok va bene intanto vedrò tutti il luogo ok ragazzi io per questo episodio sto po' qua da Arix dove sei se vi è piaciuto questo video lasciate un like iscrivetevi noi ci vediamo in un prossimo episodio però adesso devo darvele perciò Arix dove sei perciò ragazzi non mi hai visto però shhh ti panico ciao gente grazie a tutti grazie a tutti i